salve oggi vi faccio nuovamente per il pundimento tutto completo quindi dopo aver aperto tutta la fattoria quindi noi qua abbiamo 18 e incarichi completi 4 quindi prima iniziamo con 18 quindi apriamo il kitchen chime andiamo a selezionare il dryer quindi inseriamo il 18 abbiamo 18 e facciamo il primo scanner selezioniamo 1 e abbiamo 21 quindi selezioniamo 21 e andiamo su next quindi visto che ce ne abbiamo 4 adesso abbiamo il 21 selezioniamo un altro abbiamo 26 e riportiamo il 26 next scan di nuovo e abbiamo il codice giusto quindi lo portiamo a 9 9 9 non esagerare e abbiamo questo al massimo quindi prendiamo i premi giornaliero quindi qua noi abbiamo 7 sui incarichi completati quindi andiamo a selezionare adesso il nuovo codice e cerchiamo il 7 andiamo nuovo scanner quindi visto che non ci abbiamo qua basta tornare in dietro andare da un'altra parte passare il mouse ritornare in dietro e avremo di nuovo questi quindi abbiamo 7 abbiamo selezionato 7 abbiamo l'8 abbiamo il 9 andiamo sul prossimo scanner 9 adesso abbiamo il 10 adesso abbiamo il 10 di nuovo il next scanner e facciamo la prova a portarli sotto e a selezionarli e mettiamo 2005 e adesso incomincia qua abbiamo il 2005 però se andiamo qua ancora sono tutti chiusi perché si deve fare questo svolgimento e adesso arrivo quello che incomincia ad adatte le bandiere qui da dire Adesso ripartiamo di nuovo, controlliamo e abbiamo il primo pronto dei 25, quindi adesso che abbiamo il ponteggio massimo basta sempre fare così, fare così ed è sempre così e saliamo di livello. Grazie. Grazie. Grazie.